Alex Sosa, sempre anche lui dell'estato di Morello, sempre anche lui degli Autepe, e la compagna Violetta, la corista che forse parlava su Cina. Infatti una cosa, siamo qui per l'amicizia e grazie anche per l'amicizia siamo arrivati qua in via degli artisti numero 13, 13 maio, un numero fondamentale, un po' tantissimo, carica di energia, la via è il numero di centà, quindi benvenuti, un grazie. Ora passiamo la parola artistica a Ugo Coni. Bravo, grande, bravo. Hai visto registrato? Eh certo, ero lì. Non registro anche la canzone. Eh certo.